Chississimo vi presento, chissà con me oggi pomeriggio, ma soprattutto per anni ho pure parlato con una presenza, non l'avevo mai raccontato e tra l'altro recentemente, ma poco meno di un mese, i miei genitori mi hanno svelato una cosa che io non sapevo e lì mi è venuto un attimo da... E io questo non lo sapevo, non me l'avevano mai detto i miei perché ero piccolina, quindi magari non mi volevano saventare, loro non me l'hanno mai raccontato e l'ho scoperto tre settimane fa a distanza di 10, 20, quasi 30 anni più o meno, però io per anni sentivo questo respiro, ci scappa qua il fantasma. Allora, andiamo avanti, leggo un po' dei vostri tantissimi messaggi che stanno arrivando, felicissimi che siamo tornati, grazie dei vostri messaggi, veramente tutti avete scritto, eravate preoccupati che non ci fosse casalotto oggi, invece ci siamo. Pronto Marco? Sì no, stavo pensando a un'altra... Sì, però ci siamo in grata Facebook, perché vedo Gici che è in piedi col telefono. Una molto reale e realistica, lei è l'unica... E mentre Marco riprende il fiatone, perché non ci sono molti parcheggi proprio qua davanti, fortunati i primi che arrivano, poi bisogna metterla un po' più in là, infatti Marco credo l'abbia messa in seconda fila e qualcuno voleva uscire. Allora, poltrona vuota, cosa vuol dire? Che Marco non mi ha lasciato, è da sola per 13 minuti, lo aspettiamo mentre finisce l'aggiornamento perché ha il telefono con l'io. In questo frangente, allora, vi tengo compagnia e occupiamoci di questa notizia. Mi piace quando sono quelle vere ma strane, perché qua è proprio bizzarro. Allora, vi sarà capitato, almeno una volta, magari penso anche soltanto in un tratto breve di un'oretta, salire insomma su un aereo. Ebbene, una signora... Con gli amici di Italia 53 sta giungendo al termine, li dobbiamo salutare, ma li possiamo, anzi, doveroso ricordare dove saremo alle ore 20 con loro, speriamo anche. Insieme con Shaila, con Marco, con la fortuna e speriamo con tutti quanti voi sintonizzati su 7 Gold alle 20 per la nona istruzione di questo mese. A dopo. Ciao, grazie, buon benedio. Grazie.